Come ti chiami? Valentina. E poi? Barba. Ada. E poi? Alessandrelli. Sceglie. E poi? Barba. Gianora Cazzerò. Per gli amici Lola. Alessio Bifani. Quanti anni hai? 16. 12. 14. 14. Da quanto balli? 6 anni. 5. Dei. 5 anni. 5 anni. A chi ti piace ballare? Perché ho la passione, perché mi piace, perché ho la danza nelle vene. Non saprei. Viene a definire. Devo andare ad amici. Perché non riesco a vivere senso. La danza è la mia vita. Fai la linguaccia? Una faccia triste? Che brutto! Sì, allora. Un grido? Un grido? Piangi? Senti, Michel caro, sappiamo che ti vedi le tene novelle. Qual è la tua preferita? Cassandra! Siamo che hai dieci in inglese. Dici una frase in inglese? I love you from the bottom of my heart and I love dancing. Ok, traduzione? Mi amo con tutto il cuore perché amo ballare. Perché adesso sei seria? Un saluto alla dischierroldos, bacio! Ciao, dischierroldos! Ciao, Sara! Ciao, Luce! Ciao, Dani! Dischierroldos! Villios! 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 Ciao!